Invece Molinari, il discorso che faceva appunto Nicola La Torre di una politica di difesa europea, cioè di rafforzare, diciamo così, non dico un esercito europeo, perché mi sembra una parola che non esiste ovviamente, ma non esiste un esercito unico, ovviamente, ma di rafforzare una linea di difesa europea, secondo lei ha senso? Ma avrebbe senso, il problema è che quello che sta succedendo oggi è che mentre gli altri stati europei stanno difendendo i propri confini e stanno facendo l'interesse nazionale nella gestione della crisi migratoria, l'Italia non lo sta facendo. E credo che il vertice di ieri, di cui avete già abbondantemente parlato, ma vorrei fare qualche valutazione, sia stato un vertice che ha messo in mostra tre leader che sono in forte difficoltà per motivi diversi nei rispettivi paesi, che hanno cercato di richiamarsi a un simbolismo con una retorica europeista, ma mettendo in campo dei simboli che contraddicono completamente quella che è la loro retorica. Che cosa voglio dire? Il vertice è avvenuto sulla porta aerea Garibaldi. La porta aerea Garibaldi dovrebbe essere un simbolo del nostro esercito, della nostra marina militare, cioè di quelle forze che dovrebbero difendere i confini nazionali. Noi siamo l'unico paese d'Europa che invece usa l'esercito, le forze della marina militare per incoraggiare l'immigrazione clandestina, che è un'attività illegale. Abbiamo fatto passare il messaggio nei paesi africani che non chi fugge dalle guerre, ma chi ha i soldi per pagare i trafficanti di uomini che organizzano i viaggi della morte dall'Africa alla Libia e poi dalla Libia o dalle coste comunque del sud del Mediterraneo all'Italia, grazie all'intervento della marina militare possono avere un corridoio che garantisce l'ingresso in Italia e di conseguenza in Europa indipendentemente dal fatto di avere o no la possibilità di venire accolti come rifugiati. E questo non lo dice la Lega ma lo dicono le statistiche sui numeri di quante persone effettivamente poi ottengono lo status di rifugiato rispetto a quelle che arrivano. Quindi noi usiamo la marina militare e usiamo il nostro esercito per in qualche modo indirettamente favorire un'attività che è un'attività illegale, che è quella della tratta delle persone e la tratta dei disperati. Quindi questo è un primo dato.